Ciao, sono Martina. Ciao, io sono Mara. Entrambe siamo passate a lavorare dai nostri negozi al mondo degli uffici, dei servizi di Decathlon. Sicuramente tra i tanti traguardi che Decathlon ha raggiunto, da me sono tutti i prodotti innovazione che ha creato. Sono prodotti che prima non esistevano ma che adesso fanno parte del nostro quotidiano. Ad esempio l'Easy Bref, la tenda La T-Second, quando sono usciti erano un po' una novità. Invece adesso lo vediamo costantemente al mare, in campeggio, vedi questi nostri prodotti e questo è sicuramente il motivo di orgoglio.